Sindaco, ancora emergenza per Moschiano. Ci sono stati gli incendi questa notte, intanto ci sono ancora le ferite impresse sui costoni dalla frana del 21 dicembre scorso. Sì, purtroppo non abbiamo pace. La situazione peggiora e non migliora. Stanotte c'è stato un grosso incendio che ha interessato una vasta zona da Moschiano fino a Taurano e adesso da stanotte a oggi la situazione è un po' migliorata. Aspettiamo ancora l'intervento dei Canader che dovevano partire da Roma. Speriamo che entro la giornata di oggi riusciamo a domarli perché con il vento la preoccupazione c'era. Stanotte abbiamo evacuato quattro nuclei familiari perché l'incendio era ridosso delle abitazioni e niente, ma la criticità maggiore purtroppo la abbiamo qua alle nostre spalle. Queste frane che ci stanno mettendo un po' in allarme. Abbiamo due costoni della montagna che hanno collassato e speriamo che purtroppo con il tempo, che nelle prossime giornate potrebbe peggiorare, ci portano un po' di preoccupazioni. Vi aspettate un aiuto più concreto da parte delle istituzioni? Sindaco, vi sentite un po' soli in questa emergenza? Sì, siamo totalmente soli. Soltanto c'è stato un intervento da parte della regione perché abbiamo il genio civile, poi abbiamo anche l'onorevole Santaniello che è una ragazza molto disponibile, che è di 15, che ci sta dando una mano. Le altre istituzioni sono totalmente assente, dalla provincia alla comunità montana, al resto delle persone che ci potevano stare vicino. Speriamo che nel futuro ci possano quantomeno dare una mano. Assessore, noi ci troviamo proprio in una zona duramente colpita dalla frana del dicembre scorso, tra l'altro queste sono riabitazioni che sono state evacuate perché il fiume di Fango è arrivato fino alla facciata degli stabili. Esatto, al ridosso proprio dell'abitazione, è partito da su dalla montagna ed è sceso, ha coinvolto tutta questa stradina ed si è fermato proprio qua, proprio al ridosso dell'abitazione. Adesso sono rientrate le famiglie evacuate, però c'è ancora paura. Esatto, comunque siamo ancora in pre-allerta, le famiglie sono rientrate e quindi praticamente stiamo ancora monitorando perché i lavori che stanno più a monte sono iniziati ma non sono ancora finiti, perché comunque più a monte abbiamo un tappo che ostruisce totalmente il reggilagno. Quindi adesso ci sono dei lavori di sommo urgenza, che il Genio Civile di Napoli ha stanziato una somma di sommo urgenza, quindi fino a che non viene rimosso tutto questo tappo comunque non siamo sempre in pre-allerta.